Giorgia Meloni sull'Exilva resta in silenzio. L'accusa arriva dall'Alleanza Verdi e Sinistra che sottolinea come la Presidente del Consiglio non abbia ancora trovato il tempo per rilasciare dichiarazioni sull'annullamento del processo ambiente svenduto deciso dalla Corte d'Assise d'Appello di Lecce che ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura di Potenza. Meloni è scattata immediatamente contro la richiesta di condanna a sei anni a Matteo Salvini per il caso Migranti, ha dichiarato il deputato Zaratti di AWS, sottolineando così il diverso trattamento dei due casi da parte della Premier. La decisione di far ripartire il processo da zero intanto ha scatenato la rabbia di molte associazioni che si sono costituite in questi anni. Adesso il rischio è che vadano in prescrizione i reati che hanno danneggiato la salute di migliaia di persone. Ci sono persone che hanno preso i propri figli, i propri genitori, fratelli, parenti, amici che pensavano di aver un paio di anni fa ottenuto un minimo di giustizia e parliamo di giustizia non di vendetta naturalmente e adesso si ritrovano con anche lo spettro che non si arrivi mai a una conclusione giusta di questo procedimento. Il siderurgico intanto resta sospeso tra passato e futuro. Venerdì scadono i termini per presentare la manifestazione di interesse per l'acquisto dell'impianto. Nelle ultime ore alle pretendenti si sarebbe aggiunto il gruppo giapponese Nippon Steel che avrebbe manifestato l'interesse da rilevare l'acciaieria tarantina. L'azienda giapponese è in procinto di acquistare il polo siderurgico americano US Steel per 15 miliardi di dollari. L'acquisizione però, complice le elezioni presidenziali americane, è diventata un caso politico e rischia di saltare. Anche per questo il gigante giapponese avrebbe rivolto lo sguardo nel Mediterraneo. Acquisendo l'ex Silva, Nippon Steel potrebbe aggirare il regolamento europeo sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere che tassa l'acciaio importato da paesi extraeuropei.